No no no, non ce la faccio, non ce la faccio, dai guarda che sono tantissimi, mancano quelli e basta l'uno, sono quelli, aspetta, aspetta, ce l'ho fatta, non so come ho salvato tutti. Salve a tutti, io sono DanoneGamer e benvenuti su BrickRings e oggi dovremo affrontare orde e orde di zombie nella nuovissima modalità che è stata appena aggiunta, ma per fortuna al nostro fianco avremo il nostro caro buon Redbox. Riusciremo a evitare di fare delle figuracce orribili, ma soprattutto a sopravvivere a questi puzzoni di zombie cubettosi? Buona visione! Signor Red mi arriva? Che c'ho gli zombie che vogliono mozzicarmi un testicolo? Si chiama Telone, vero? Si chiama Telone, si chiama Telone, un telone per amico. Sto arrivando signor Lowe. Velocio, velocio. Sono dentro. No, no, non l'ho sentita entrare, guardi. È una brutta pubblicità da avere online, eh. Ah, qua, 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 qui, 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 aspetta, aspetta. Cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è? Questo, il watermelon. Ma va, va, via, porco cane, mi fa perdere tempo così. Sono un militare professionista io. Dio. Ok, buono, buono. Stanno arrivando delle colline. Ok. Oddio, vengono dalle montagne. Sto facendo colpi alla testa. Red dietro, Red dietro, Red dietro, Red dietro. Ah, ah, l'ho visto. Ti stanno mozzicando una natica. Aspetta, 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 signore, 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 aspetti, signore, aspetti. Ok. Oh, oh, questo non l'avevo visto. Senta, io mi compro intanto un'arma veloce. Ulle. Ah, no, te la frego io. Presa, presa, presa. Qua abbiamo le munizioni. Qua abbiamo ricarica rapida. Aspetta, 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 aspetta. Ok, ok. Eh, dai, dimitragliatore. Ma non è il mitragliatore, tu? Ma c'è un pezzente. Eh, no, perché sono entrato un'ondata dopo e tu mi stai fregando tutti i zombie. Non è vero, non è vero. Con la mira di merda che c'ho, Red, guarda. Eh, ho capito, ma c'è anche un mitra. Se sbagli, sbagli più volte. Dai, che stiamo facendo bene. Dai, che stiamo facendo bene. Eh, effettivamente. Occhio, corre questo qua. Da fretta, deve andare al liper. Al liper. Al liper. Attenzione, Red, dietro, dietro, dietro. No, 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 Red. No, Red, no, Red. Ho perso i soldi. Eh, vabbè, ti raccolgo il portafoglio e ti ciullo quello che c'era dentro. Dai, vieni. Eh, ho capito, ma adesso non ho più soldi nemmeno più a comprami la... Aspetta, questa cassa qui mi permette di migliorare l'arma. Hai 30 dollari da prestarmi, Red? C'ho sempre 100 dollari che non riesco a tirarti. E presto, me ne 30. E non riesco a tirare fuori dalle tasche, sono un po' plasticose. Ma, porco, cari. Tutto escluso è perché non vuoi farmi un prestito, maledetto. Non è assolutamente vero. Guarda, aspetta, aspetta, girati. Eh, girati. Eh, Red, stanno arrivando gli zombie. Eh, appunto per quello. Che fai? No, 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 bastardo. Devi trattare di derubare da dietro. Eh, certo. Da davanti lo accetto, ma da dietro no. Come da dietro no? Ma se mi dici sempre che è la tua parte preferita, quella. Eh, no, ascolta, è così che ho perso la virginità. Vabbè, andiamo avanti. Non ne voglio parlare, non ne voglio parlare, fa ancora male. Molto, molto male. Eh, lo so. Red, 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 Red. Tanta gente, tanta gente, tanta, tanta gente. Red dietro, red dietro. Ma porco cane, ma porco cane. Levati, levati che mi mozzicano. Ma ti sto salvando le chiudette. Guarda, vado alla Rambo, vado alla Rambo. Fotte sega. Oh. Potenziassi la pistola, non l'abbiamo mai fatto. Non l'abbiamo mai fatti, in effetti. Uh, che bello il mio mitragliatore, è più lungo del tuo. Mi manca ancora cosmo. Andiamo avanti. Io non prendo il mitragliatore, voglio migliorare la pistola appena potrò. Vai, vai, miglioro la pistola. Una buonissima idea. Ok, ok, sono cinque, ce la possiamo fare. Aspetta. Questo qua, questo qua. Questo qua, questo qua, bravo. Vedo che abbiamo concentrato il fuoco, siamo persone molto tattiche noi due. Ok, aspetta, 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 aspetta. Ok, fuori uno. Oh, perfetto, questo qua che avevo cominciato io. Buono, aspetta che sto ricaricando. Tento, quello dietro, quello dietro, quello dietro. Ma hanno meno vita, hanno meno vita questi dell'altro. Non lo so, Red, si stanno circondando. Ma come? Da polizia, polizia brutale, polizia brutale. Ah, 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 aiuto, aiuto, aiuto. Sto io perché ero nero. Ma non è vero mai. Sono loro, quelli neri. Cioè, scusa, sono loro i poliziotti neri, noi siamo di altri colori non meglio definiti. Appunto, sono raccissi anche loro, basta. Aspetta, ho 17 colpi, li devo far durare bene. Dai, 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 giusto, giusto. Merda, 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 merda. Benvenuto nel ghetto, bastardo. Mi ha dato mille dollari, posso riprendere? No, mi ha dato la pistola. Non ci credo. Ti ha dato la pistola? Non ci credo mai nella vita, mi allontano e cerco... No. Miglioro la mia arma, guarda, guarda che bella, d'oro. Ce l'ho, d'oro. Zero dollari, tu sei già con quella d'oro, io c'ho la pistola degli stupidi. Ecco, ho detto di spararti su un testicolo. Oh, no, ha colpito te, aiuto. Red, porco cane, dai che arrivano. Ah, 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 ah. Che succede? Che niente, mi stavano polpeggiando all'improvviso, all'improvviso la polpeggiata. Ah, ti sta correndo, aiuto. Non, 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 non. Eh, aiuto, Red, di qua, Red, di qua. Eh, vabbè, ma io sto continuando a morire, basta, ma basta. Aspetta, 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 che sono messo malissimo. C'è tanta gente, c'è tanta gente. Aspetta che ci sono incolonnati. Bravi. Oh, oh, ehm, Red sono tanti, Red sono tanti. Eh, lo so, eh, lo vedo, eh, lo vedo da me, lo vedo da me. Porca boia, porca boia. Dai. Mi respawni un po' più rapidamente, mi risorgi quando hai un secondo? Eh, guarda, ci sto provando, ma devi... No, no, mi sa che sei in bagno, eh. Aspetta, aspetta, merda, merda. Buono, buono. Dai, no, no, no. Dai che ne mancano due, mancano solo loro. Ah, ah, sono fuori dall'area di combattimento, sono fuori dall'area di combattimento. Dietro, è l'ultimo, è l'ultimo. Aspetta, aspetta, aspetta. Surprise, mother fucker. Ok. E poi, qua, con i miei 100 dollari in cui non posso fare niente. Tranquillo, tranquillo, io ce n'ho di più, ma sono comunque messo male di mira. La posso potenziare ancora? Ancora. Guarda che figa. E dopo, dopo cosa c'è? Non l'abbiamo mai visto cosa c'è. Posso fare la ricarica rapida, se voglio. C'ho anche la ricarica rapida. Prova a fare un colpo e ricaricare, a vedere quanto è veloce. Aspetta, pam, e... Cazzo, praticamente, un mitragliatore automatico ambulante. The Red vanno a fuoco, ho i zombie infuocati. Lo so, lo so che vanno a fuoco. Mi piace anche a me quell'arma perché la uso su me stesso ogni tanto quando freddo. Ma come? Non credo sia nata per quello, aspetta. Red dietro, red dietro. Pessime idea, pessime idea, pessime idea. Fuggio, fuggio. E io devo ricaricare ma non posso farlo perché se no mi ammazzano vengo da te. Come vengo da te? Ah, avevo capito, vengo in te. No, mi... Oh, 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 37% di vita, 37%. Guarda quanti, sono tu di dietro. Ah, sono morto male. Sono morto malissimo. No, sei morto tu. Sì, recupera il mio cadavere, recupera il fucile del mio cadavere. Ma dove? Ah, sì, posso? Te lo presto perché siamo amici. Vai. Sì, posso. Ma non ha... Ma dove? No, ma sei morto. Ma come? Si è scivolato. Era bagnato, si è scivolato. Eh, si era bagnato, esatto. Ho sette colpi, ho sette colpi. Ma come hai sette colpi? Uh, posso... No, non posso fare niente ancora. Hai l'upgrade? Uh, sì, la random weapon. Sì, mi ha dato il fucile. Ok, perfetto. No, dammi il fucile. Non posso come dartelo. È mio. Non so, aspetta, te la compro io. Mi manca 30 dollari, Redmi. No! Mi dispiace. Non ci amare me la prendo. No, 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 no. Che sarà poi di combattere da solo. Sarò poi di combattere da solo. Ammazzo uno zombie. Dopo te la compro, te lo giuro, te la compro. Ammazzo uno zombie e compramelo. Non mi può... Non ti porto più. No, mi servono due zombie, ti giuro. Ti giuro, ti giuro. Adesso te la compro. Aspetta, aspetta. Red, dietro, red, dietro. Eh, come faccio? Red, presa, presa. Red, prendi più. Ma no, sei morto. Ma te l'ho comprata, dai. Ma che tristitudine. Ma non ho parole. Prima mi frega l'arma, poi muore. Sti pezzenti che mi incolpano di avergli rubato l'arma quando chiaramente era per me. Ma cosa stai dicendo? Ma che ne sai? C'hai le prove video. Dove va quello? Dove va? Ma sì che c'è le prove video. Signore, signore, scusi, salve, sono di qua. Vai, red. Salve. Il mio fucile, il mio fucile. Prendilo, prendilo, prendilo. È mio, il mio fucile. Aspetta, ho c'è l'upgrade. Upgrade, no, non c'ho soldi. Poliziotti, poliziotti, poliziotti. Oh cacchio. Eh, qua mi serve il fucile. No, fallo la pistola. Sei un youtuber così bravo a giocare. Ma dopo, quando la miglioro, sì. Dai, allora, vado io di pistola perché sei così bravo che mi fido di te. Dai, dai, tutti su questo. Tutti su questo. Surprise, madafacca. Benvenuto nel ghetto. No, 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 brutta idea, brutta idea, brutta idea, brutta idea. Ricchiamo, ricarichiamo. Red, stavo sparando a te. Piccolo dettaglio. Ma come? Questo qua, questo qua. Aspetta, aspetta, arrivo col mio revolverino. Anzi, no, vabbè, è una Desert Eagle. È una Desert Eagle. Ok, ok. Stavo per chiamarti Amore. Amore, dai, avanti a tutti, avanti. Avevamo detto che certe cose le tenevamo per noi. Scusa, ma non ho più colpi, devo usare anche io la pistola. Aiuto, la pistola, la pistola. Guarda, vado a dirvi, no, ho finito le munizioni. Ah, 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 ah. Cosa? Cosa? Non mi prende... Ok, ok, me l'ha ripreso, me l'ha ripreso. Morici. Red, Red, c'è la pula dietro. Lo so, lo so. Uno è quasi morto, il primo. Aspetta, li faccio fuori io, tranquillo. E la pula, busso, fammi entrare. Ma lui rispose... Red, gli spari? Bravo. Ti vedevo un attimino dubbioso. Dai, stiamo diventando un po' più bravini, mano a mano. Non lo dire, non te lo gufare, Red. Non te lo gufare. Non me lo gufo mai più. Guarda che c'è tanta gente, guarda che c'è tanta gente. Guarda che c'è tanta gente. Merda. Stavo per migliorare il futuro. L'hai detto. Te l'avevo detto di non gufarla, Red. Merda, muoio, merda, muoio, merda, muoio, merda, muoio. Mi stavo girando per sparargli. Mi piace che c'hanno la pacchettina sulla giacca. Ti prego, dammi il cervello. Meglio che il culo, meglio che il culo. Dai, Red, terza partita e poi vediamo se c'è qualcuno che può darci una mano. Dobbiamo rendere fiera la nostra... Ma perché tu non mi arrivi subito? Ma perché, io te l'ho detto, crashandomi il gioco, devo riaprirlo. Sì, chissà perché quando arrivi c'hai tutta la bocca sporca di panini e salame. Eh, lo so, mi piace fare come le pepere e sbattere la testa sopra i panini. Ben, ben, ben. Cos'è? Ma che tristezza. No, è che... Ok. Ok. Red, 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 red. E sono ricaricati. Stay in alive, stay in alive. Red, 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 stay in alive. Ok, grazie, mi saluti il chiurlo. Sì, lo so. Ok. Mi piace salvarti il chiurlo. Buona, buona. Il chiurlo. Dove va il signore? No, signore, signore, stia buono. Oh, bravissimo, Red. Signore è morto. Eh, non ti preoccupare, va. No, che sfiga. Perché sempre la pistola a me? Aspetta, aspetta, aspetta. No, mi manca 20 dollari, mi manca 20 dollari. Devo di nuovo ricaricare, devo di nuovo ricaricare. Sto cercando di fare colpi precisi. Incredibile. Hai fatto colpo su di me in un modo precisissimo. Ah, sì, attento che lo zombie dietro di te vuole fare colpo. No, no, no. Ti ho salvato, però, no, 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 no. No, 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 no. Cosa? Stavo corriendo per le armi. Aspetta, aspetta che c'è tanta gente, c'è tanta gente, c'è tanta... Troppa gente, troppa gente. Decisamente. Quando siamo sfortunati e non ci dà il fucile all'inizio è un po' più persa, secondo me. No, vai a fine club. Ma prendi la che ha più colpi almeno. Ok, 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 aspetta. Eccomi, sono tornato. Oh, perfetto. Non ci ho pensato. Guarda un po'. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma va a falovo, dai! Ma va a falovo, ma migliora la pistola e basta a sto punto. Ma volevo fare il figo col fucile, dai, non possiamo fare la battaglia con la pistola. Ci sono i comunisti con Rolex e i fighi col fucile. Ma cos'è adesso? Ma cosa c'entra? Siamo avanti. Ah, Red, attento, Red, attento. Pula dovunque. Ma porco di quel porco cane. Red, c'è un po' di pula che mi insegue e mi palpeggia. Dov'è la tua pistola? Dammi la pistola. Bravo, Red. Guarda, la stavo muovendo da morto. Da morto addirittura. Sì, ma c'erano nove colpi. Che tristezza. Eh, che cosa ci posso fare? C'hai la pistola povera. Maledetta. Eh, io sono povero Lorne. Un colpo c'era su questo. Guarda, sembra che stiamo giocando con il trenino dell'amore. E stai, ricarica. Non c'ho soldi. Non c'ho soldi. Come farai, Lorne? Non c'ho soldi. Non posso prenderli a pugni. Prendo a porchi. Dai, ricarica. Ricarica. No, ho finito i colpi. Come farai? Non lo so. Questa è una nuova, questa è una nuova. Aspetta. Ma trovi tutte le pistole. Ma che ne so? Ma che ne so? Trovando proiettili dovunque. Si, pistole dovunque. Vai, vai, Lorne. Ho finito i colpi che su questa vista. Aspetta, aspetta. Finite che è questa. Prova a ricogliere ancora quella terra. Vedere se si è ricaricata un po' nel stare lì. Ma io ti ho pure seguito. Ma porco cane. Ok, dai. Muore o male o muore o male. Ok. Dai, lo posso. Che cosa gli spargo? Gli sputti. Ma porco cane. Dai, puh. Polizia brutale. Amici, sono arrivato. Ma per adesso sono in modalità spettatore qui. Sono tipo fantasma. Ci penseremo noi a vincere questa ondata per te, signor Lon. Guarda qui che è. Ti palpeggio il culo, Red. Non so se sei tu. Perché vi siomigliate tutti. Guarda, guardalo, guardalo. Guardali che tranquilli loro. Faccio la modalità spettatore barra spettro dall'alto. No, no. Lo spettro non mi piace. Mi fa vedere uno spettro della mia vita. Lo vedo, lo vedo. Quando sono con gli occhi sono un po' più attento perché lui non è capace di giocare. E infatti è morto, ma è morto malissimo. Sono arrivato anch'io, amici. Ma quanti siamo? Quanto aggetto c'è? Ma quanti siamo? I big numeri. Guarda il furbetto che aspettava che io aprissi la cassa per ciullarmi l'arma. Bastardo. Vedete che siete gli zombie, eh? Eh, li vedo, li vedo, signor Lon. Fa il furbo, fa il furbo. Ti prendi l'arma solo quando sei a metà wave, a metà ondata. Anche guarda che si è messo sopra la scatola il furbetto. Così non posso prendermi l'arma. Bastardo. Che maledetto. Eh, aspetta solo che tu compri l'arma e lui te la frega. Aspetta, 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 ok. C'è ancora quello, c'è ancora quello, perfetto. Oddio, quello là in alto. Dove, dove? Oh, ok, ecco, morto, morto. No, mi ha dato un'altra pistola. Ah, stavo per dire, ah, gli è uscita la pistola, ma invece è uscita a te la pistola. È uscita a me, sono triso. Scusa, non lo sapevo, mi dispiace. Quanto è sempre che zetta di aprire la scatola? Guardi che non è che tu la devi mai omettere, eh. Lo vedo confuso. Vai, 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 siamo un esercito contro gli zombie, torneremo a casa dalle nostre mogli. Perché abbiamo mogli, vero? Non siamo giusto. Ah, non lo so, se la tua è gnocca, ma se me la presti per fare una paragone con la mia. Guarda, non presto la mia moglie solo perché poi dopo... La mia moglie è russa.org No, russa nel senso che fa... Eh, la mia moglie è russa.org Tipo apre il sito ed è una streaming della sua moglie che dorme. Sì. Ecco perché il mio sito non ha funzionato. Tizio ti sei messo in un punto di merda. Eri tu. Ero incastrato, sì. Allora, ti ho ciulato la pistola, ti ho ciulato la pistola, Red. Eh, ma io con il fucile in mano potrei prendere il fucile. Allora ti ho ciulato l'altro tizio. Eh, Yoshi me l'ha fregato, ci è riuscito alla fine, maledetto. Ecco cane. Avevo quasi i soldi per migliorare la pistola. Vabbè, io ciulo pistola in giro. Ma sono tutte scariche, ma che tristezza. Oh, oh, uno ha buttato il fucile a te. Dove? Eh, l'aveva buttato e poi dopo l'ha ripreso. L'ha ripreso, ma che peccato. Fucile mio, l'ho preso con i miei soldi. In verità l'ho ciulato io, eh. In verità l'ho ciulato io, tanto che passavo. Gli faccio anche l'upgrade. Gli faccio anche l'upgrade perché sono un fetentone. A me basta avere il mirino e poi li faccio fuori tutti, signor. A me basta che siano fermi e io abbia tipo un'arma di distruzione di massa e qualcuno ne prendo. Ah, beh, sì, più o meno siamo... No, sto facendo un po' di kill anch'io. Eh, ma effettivamente... Guarda che Yoshi muore, guarda che Yoshi muore. Io ho salvato il culo, però stavo morendo io. No, no, infatti Yoshi muore. Guarda, l'avevo chiamato, l'avevo detto, c'ho i poteri. L'avevi chiamato, l'avevi chiamato. Aspetta, aspetta, aiuto. Aiuto, buono. Buono. Boni. Boni. Tate boni. Tate boni. Ok. Tate boni. Ne mancano pochi, ne mancano pochi. Dai che devo migliorare l'arma. Ancora due, è dall'editore di me. Perfetto. Io miglioro l'arma. Yeeey, yeeey. Aspetta, aspetta, e io vado ad arma ad oro. Yeeey. Aspetta, aspetta, vado a salvare Yoshi che sta per morire in malo modo. Eh, già lo stavo salvando io. Yoshi, Yoshi, porco cane. Ed è morto, ed è morto. No, Yoshi, ma perché? Perché gioca al signor Yoshi? Cioè, capisco riprovare, riprovare, ma dopo un po'. Sì, arrenditi al fatto che non sai sparare. Arrenditi? Eh, infatti. Ma poi magari sono gioco. Dai, che ce la stiamo facendo. Qualcuno va a mangiarsi il cadavere di Yoshi, peraltro. Sì, esatto. Non sapevo che i dinosauri fossero gustosi. Ok, sì che gioco a Ark, voglio dire. È morto anche un altro giapponese. È morto uno con un nome altamente giapponese. Ok. Buono, buono. Abbiamo ancora quelli colpi infoiati. Infuocati. Esatto. Ok, eccoli che arrivano. Infuochiamoli di brutto, Red. Ma muoiono molto velocemente, dai. Se li becchi in testa con un fucile infuocato. Il fuoco in cielo. Eh, vedi, è dal primo episodio che te lo dico e tu dici no. Ma davvero? L'ho notato adesso. L'ho notato adesso. Vai che siamo in tantissimi. Dovremmo riuscire a farcela. Non l'ho detto veramente. Ma sai quanto... Eh, c'è Yoshi che vabbè che non contano. Vabbè, Yoshi secondo me fa parte della squadra degli zombie. In realtà è uno zombie armato. Sono gli zombie che stanno cercando di fare... Prendersi in possesso del gioco. Oh, ma che lo stiamo andando? No, no, stiamo andando bene. Stiamo andando abbastanza bene. Eh, dieci boss, dieci boss. Dai, è fattibile. Abbiamo anche i... Eh, però... Quanta vita, secondo me. Eh, non lo so, ma non si infuocano loro. Uno ne ho fatto fuori. È vero. Non si infuocano. Uno ne ho fatto fuori. Se stiamo attenti ai colpi non dovrebbero... Oh, oh. Merda la pula. Merda la pula mi ha beccato non so da dove. No, sei finito in garcele. No, no, no. Ho il 5% di vita, ho il 5% di vita, merda. È quasi finita, manca l'ultimo. Aspetta, mi guardo attorno, non ce l'ho paura. Maledetti poliziotti piedi piatti, non mi avrete mai vivo. E infatti sto per morire. Non ho colpi, non ho i soldi per i colpi. Aspetta, aspetta, aspetta. Attenti, attenti, ragazzi, ragazzi. No, sono morto io. Come sei morto tu? Prendi il mio fucile. Ma da dietro una botta mi arriva. No, no, no. Da dietro una botta, Redd era un pochettino tanto ambigua. Aspetta che mi ricarico. Ok. Buono. Buono. Au, au. Poliziotto della minchia. Poliziotto, poliziotto. Sparagli, che cazzo fai? Gli stai chiedendo le generalità. Eccomi. Voglio il mio fucile indietro. Lo vado a prendere. Sì, l'ho ripreso. Ok, ok, ok. Ok, no, è un dato semplice. Resistono di più. Mi pare che resistano di più. Sì, decisamente. Qualcosina in più, sì. Porteremo il nostro culo a casa di nuovo. Anche qualche altro culo non sarebbe male, Pino. Oh, no. Non ho più la ricarica rapida, io però, cavolo. Io la mira di merda ce l'ho ancora, quindi siamo a posto. Eh, vabbè, ma quello perché ancora non sei morto, quindi c'è ancora quel perk. Non è proprio un perk. È un press per il cul, casomai. È un perk. Ahia, di nuovo. Un colpo morto, Fanno. No, davvero? Sì. Guarda, è morto un altro dei nostri. Aspetta, aspetta che sto ricaricando. Amico, ti salvo. No, è morto anche un altro che morì. No, 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 morì, morì, esco, morì, non esco, morì, non esco. Sei rimasto solo tu, non morire, signor Lomb. Eh, sono 22, ciao. Dai, dai, che ce la fai e riprendiamo tutti i nostri fucili. Dai, dai, dai. No, ho finito i colpi, ho finito tantissimi colpi. Ho finito tanto, 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 tanti colpi. C'è troppa gente, c'è troppa gente. Li ricompro, li ricompro, li ricompro. Ok, ok, ricarica sta cazzo di cosa. Ricarica sta minchia. Guarda, merda, 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 merda. E' facile così, vai. No, 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 arrivano a cadere di lato. No, 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 non ce la faccio, non ce la faccio. Dai, guarda che sono tantissimi. Mancano quelli e basta, Lomb. Sono quelli. Aspetta, aspetta, ce l'ho fatta. Non so come ho salvato tutti. Non so come ho salvato. Guarda soldi che mi hanno dato. Mi hanno dato tantissimi soldi. Aspetta, riesci a comprare un fucile così me lo dai. Aspetta, aspetta, vieni qua, vieni qua, Red, vieni qua, vieni qua. Pronto? Sono qua di fianco al fucile, vai, sì. Vai, 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 preso. Ok, buono, 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 buono. Guarda, gente, che c'è? Oddio, no, sono morto. Come sei morto? Eh, non lo riconoscevo, pensavo fosse uno di voi. Prendo le armi, immunizioni. Vai, non. Non vi è che sono l'unico di nuovo. Ma siete fettenti. Ma c'ho 20 di vita. Ma non abbiamo le armi belle come le vostre, noi. Ok, no, no, muoio, 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 muoio. No, no, ma non morire. E io ci provo. Eh, sì, eh sì, ciao. Eh, ciao. Sono scivolato, sono scivolato, c'era il fango, ho scivato, ho sbattuto la faccia. E contro ogni aspettativa, il TheLongamer è l'ultimo sopravvissuto alle orde nemiche per ben due volte. Ok, quasi riuscivo a salvarli. Ma porco di quella porca, mi è contento, onestamente mi è contento. Fatemi sapere nei commenti, se volete che facciamo anche altri episodi di BrickRigs. Lasciate un bel mi piace per continuare la serie, candidatevi per aiutare il canale a crescere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao, ciao.